Siediti, cara. Il tuo nome? Sara il ***. Sara, certo. Quanti anni hai? 16 anni e 3 mesi. Sei nervosa, Sara? No. Sto bene. Qui sto bene. Bene. Perché noi ci preoccupiamo per te. Sei diventata bella. Te lo ricordi come eri segni di fa quando sei entrata? Sì. Il digiuno come va? Bene, oggi è il terzo giorno. Tua madre ha detto qualcosa di... Quei segni? No, lei è troppo occupata. Non si accorge di nulla. Le hai parlato di noi? No, mai. Ormai non hai più bisogno della tua famiglia, Sara. Adesso ci siamo noi. Ti fidi di noi? Sì, perché? I tuoi fratelli più grandi dicono che hai tentato di impedire la tua amica di eseguire l'unione. Le unioni sono importanti. Sì, ma... Quello che le facevano fare... Io ero preoccupata per il suo bambino. E perché mai? Ho visto del sangue. Sara, tu sei stanca. Sì, un po'. Tu non hai visto il sangue. E la tua amica sta benissimo. Sta bene. La rivedrei al prossimo incontro. Davvero? Ma certo. Vediamo il segno adesso. Lo sai cosa significa? Sì. È il segno della promessa. Significa che sono sopravvisto a territorio dell'acqua. Quando mi hanno spinto la testa sotto, non ho neanche urlato. E poi? E poi significa che sono speciale. Che faccio parte del gruppo. E che il gruppo è la mia vita. Tutto il resto è inutile. Gli altri possono anche morire. Noi non moriremo mai. Mai? No, mai. Finché non tradiamo la promessa. La promessa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.